Sai, ho sempre desiderato averne uno tutto mio, progettarlo, realizzarlo e infondergli vita. A scuola si insegnano come gestirvi ed educarvi, ma raramente ci vengono fornite le informazioni necessarie alla creazione. Vedi questo libro? Me lo ha regalato mio padre per il compleanno. Dentro ci sono tante figure e tutte le istruzioni per una creazione completa e io le ho seguite perfettamente. Sono sicuro che quando ti guarderai ti piacerai molto. A me piaci, sei come ti ho sempre immaginata. Una volta ho visto una foto con un'esemplare femmina. Era molto bella e non ho mai dimenticato il suo volto. Tu le assomigli, sai? Mia madre dice che dovrai aiutarci nelle faccende domestiche, ma io voglio che tu stia sempre con me. Anzi, voglio che tu sia la mia migliore amica. Vedrai. Saremo inseparabili e non permetterò a nessuno di portarti in uno di quei posti per la rieducazione. Sai, quelli dove vanno gli esemplari difettosi, che si ribellano, tu non lo farai. Sarai brava, vero? Se ti comporterai bene, i miei genitori, presto, ti permetteranno di dormire in casa e non nella cella di servizio. A volte alcuni di voi si comportano in modo strano, come se il vostro cervello funzionasse davvero. Chissà, forse, perché in fondo vi sentite vivi come noi e volete una vita normale, proprio come la nostra. Mio padre dice che noi siamo esseri superiori e che voi non sarete mai in grado di raggiungerci, intendo per intelligenza. A me sembrate svegli quanto basta per poter vivere al nostro fianco. E mio amico Ralph, nella sua casa, ne ha uno molto vecchio, in fase terminale. Si muove lentamente e non può più fare lavori di fatica. Dice che appartiene alla sua famiglia da tanto tempo, da prima ancora che lui nascesse, e che sua madre ormai prova a pietà, tanto da non volerlo sostituire con uno nuovo e più efficiente. Ecco, questa era l'ultima dose del liquido generativo. La vasca ne è colma. Spero di non aver dimenticato nulla, altrimenti chi lo sente, mio padre? Ecco, ti tiro su io. Come sei leggera. Ora sei viva. Apri gli occhi. Donny, scendi. È l'ora della condivisione, esclamò una voce femminile e metallica. Arrivo, mamma, rispose il giovane che si alzò dalla postazione di lavoro spostando il suo pesante corpo. Uffa, proprio adesso. Tu resta qui. Io devo andare a condividere gli avvenimenti della giornata con la mia famiglia. Ha una tradizione del nostro popolo. Ci sediamo intorno a un tavolo e parliamo, ma... Torno tra poco. Intanto tu puoi provare a muoverti. Ah, dimenticavo. Questo è uno specchio. Guarda come ti ho creato. Ma tra poco. Donny si incamminò scattosamente verso la porta, ma prima di uscire si fermò e si voltò, guardando con orgoglio ciò che aveva realizzato. Un esemplare nuovo di Zecca. E mise un verso simile a un rumoroso sospiro. Convinto che la sua creazione avrebbe destato un'incrollabile invidia da parte dei suoi amici. Nella stanza scese il sipario del silenzio, disturbato solo da un suono cadenzato e umido proveniente dalla vasca, dove una mano esitante si sporgeva, lasciando cadere in terra le gocce di un corposo liquido, mentre tentava, senza alcuna guida, di afferrare lo specchio lasciato da Donny. Il piccolo oggetto venne trasportato fino a mostrare un volto giovane e armonioso, dall'espressione smarrita con lo sguardo di chi ancora non ha imparato a pensare. La mano tremò e la flebile presa fece cadere allo specchio, ricoprendo il pavimento di frammenti infiniti, ognuno dei quali si sparpagliò a riflettere l'immagine dell'esemplare che faticosamente usciva dall'involucro e muoveva i suoi primi timi di passi. Donny, hai tentato il tuo lavoro? Sì, padre. Credo che in questo momento Noah stia. Perché le hai dato un nome? Non è che un ammasso di carne ben assemblata. Una tua creazione, senza di te, non esisterebbe nemmeno. Beh, ecco, io forse credo, forse credo che sia comunque viva. Sciocchezze, noi siamo vivi e i nostri circuiti sono l'espressione dell'esistenza, non quelle creature con corpi mollicci e fragili, tanto inadeguati da deteriorarsi irreparabilmente con il trascorrere del tempo. Il luolo, il confronto tra noi e le creature, pone le basi dell'ancestrale origine della nostra stessa presenza nel mondo, l'eternità contro la transitorietà. Forse avremmo dovuto acquistare una di quelle cose direttamente in un allevamento controllato. Dicono che la produzione delle creature di quei posti garantisca la selezione di soggetti perfetti e più semplici da gestire. Mi auguro proprio che la tua non crei problemi, non vorrei dovermi trovare nella condizione di procedere alla soppressione. Detesto le loro grida, disse la madre, arricciando innaturalmente l'estremità lucente del volto. Lei farà la brava. Ne ho già spiegato che se non lo sarà verrà punita. Sicuramente ha capito cosa le stavo dicendo, replicò il giovane. Le tue parole mi perplimono. Non permettere alla complessità di prendere il sopravvento sulla corretta valutazione dei fatti. Ora va e ricordati di iniziare a somministrare il controller. Siamo noi a regolare le loro funzioni organiche. Che esseri inferiori necessitano di frazionare le loro insorse, alternando fagi di veglia a quelle di sonno. Come vedi figliuolo, non saranno mai come noi, per lo ironico il padre. Può darsi. Eppure a un tempo si narra che le creature umane fossero, disse Donnie bruscamente interrotto dal padre. Leggende, credenze, nulla di più. Non alimentare simili dicerie che di tanto in tanto emergono tra i nostri fantasiosi pensatori. Maledetta libertà di espressione. L'esistenza delle creature è da sempre legata al nostro interesse. Così è stato e così sarà, disse il padre. Donnie a lui, affatto convinto, si alzò dalla sedia e si allontanò. Nella sua mente c'era spazio solo per la sua creazione, la quale, alle sue cavità orbitali luminose, appariva semplicemente perfetta. Nostro figlio è molto curioso, disse la madre. È vero, ma la curiosità non è funzionale in un mondo come il nostro. Lo riprogrammerò, modificando i suoi processi emotivi, e regalerò la creatura al laboratorio di scienze della scuola. Gli insegnanti hanno sempre bisogno di esemplari di carne nuovi e resistenti per la sperimentazione, concluse il padre, che sollevò dalla sedia la sua ferraglia e si diresse senza alcuna remora nella stanza di Donnie. Grazie.